cari amici avete fatto il pieno si intendo il pieno di book naturalmente per avere un qualcosa da leggere durante le vostre ferie sia che rimaniate a casa sia che andiate al mare o ai monti avete fatto il pieno e ricordate che gli book simonelli editore diversamente da quelli di altre realtà editoriali non sono la fotocopia digitale di quanto potreste trovare in libreria nei volumi tradizionali gli book di simonelli editore sono al 99 per cento opere assolutamente originali in digitale quindi non li potete trovare da nessun'altra parte e se siete dei lettori curiosi potrete trovare tante cose estremamente interessanti e curiose da leggere a 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 Grazie.